Si sono registrati nella giornata di ieri altri due positivi nel Cilento, oltre ai casi accertati dall'ASL per quanto riguarda le persone contagiate nella città di Capaccio Pestum. Gli ultimi due casi riguardano il figlio dell'anziana donna di Casalvelino ricoverata nel reparto di medicina generale sabato scorso per un blocco intestinale a San Luca, dove è stato fatto per Prassi, il tampone che è poi risultato positivo al Covid e dalla badante che vive con l'anziana donna. Erano stati fatti sette tamponi ai contatti stretti della donna di questi, fortunatamente soltanto due sono positivi. L'anziana fa sapere il figlio, risponde bene alle terapie e si notano dei miglioramenti seppur minimi. Come la scorsa volta ci tiene a sottolineare anche in questo post, desidero rassicurare amici, parenti e clienti, la carica positiva del virus dovrebbe essere abbastanza bassa in quanto è riuscita a contagiare solo le due persone che sono state maggiormente a contatto con lei e nemmeno la moglie e la figlia di mio fratello, che vivono nella stessa casa. In più, come già detto in precedenza, all'interno dell'ambiente lavorativo abbiamo sempre osservato scrupolosamente le normative anti-Covid-19 e conclude il suo post su Facebook con una preghiera. Vi chiedo un grande gesto di umanità e sensibilità da parte vostra. Cercate di non mettere all'agonia persone trovate coinvolte in situazioni capitate senza colpa.